segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questo che si sappia io ho ricevuto una lettera molto pesante questa settimana ieri mi è arrivata di minacce vere io non ho paura lo dico a chi mi sta guardando che me l'ha mandata non ho paura anche se si fanno dei nomi in questa lettera quindi gente che sa cosa faccio non è una lettera così ma non ho paura vado avanti che sia chiaro come vanno avanti i miei ok eravamo andati dalla preside